Un'esperienza strana, nuova, però interessante perché non si finisce mai di imparare. No, troppo su no, altrimenti viene squilibrato quando fai la manovra. Siamo oggi per fare una nuova esperienza nel mondo Ford. Ford pensa tantissimo alla sicurezza sia attiva che passiva delle proprie vetture, ma stiamo tentando di cambiare la mentalità dei nostri ragazzi. Facciamo una giornata molto intensa dove i partecipanti hanno la possibilità di provare le vetture, le dinamiche legate a frenate di emergenza, allo slalom, proprio la gestione della vettura quotidiana. Penso che la cosa che si sta facendo adesso qua a Colonia è molto interessante perché, appunto, come ci hanno anche spiegato stamattina, ci sono tanti incidenti sulle strade, tanti morti, soprattutto tanti ragazzi e quindi penso che sia corretto istruire giovani come noi a fare questo tipo di cose e appunto che ci spieghino esattamente come comportarci in tutti i diversi casi. Penso che sia una cosa molto buona. Penso che le cose, appunto, che ci hanno spiegato oggi sono molto interessanti perché, appunto, ci hanno anche detto che molti ragazzi come noi muoiono sulle strade e quindi, insomma, ci hanno fatto capire in tutti i modi possibili che è molto importante la sicurezza sulle strade, è molto importante sapere come comportarsi e quindi, no, poi è anche interessante questa dimensione internazionale che ha preso l'iniziativa, appunto, chiamando diversi ragazzi da diversi paesi europei. Aiuto! Grazie a tutti!